Le persone sono motivate, quindi noi abbiamo giovani che si avvicinano al microcredito, aprono aziende in un momento dove il tessuto anche del nostro paese non favorisce la nascita di nuove aziende, la burocrazia, il sistema dei comuni, tutti i vincoli anche fiscali, quindi non solo le persone che fanno, che usufruiscono allo strumento di microcredito aprono azienda, ma sono anche degli ambasciatori di nuova speranza, perché veramente io delle volte guardo queste persone che grazie al microcredito, ieri proprio ho visitato un bar a Fiumicino che ha aperto la propria attività di microcredito e questi sono veramente degli angeli, perché aprire la seranda alla mattina nel sistema italiano dove c'hai un'aggressione quotidiana, noi dovremmo aiutare queste persone nelle pratiche burocratiche.